alle mie gattine piace tantissimo sgranocchiare e anche a me da quando preparo la granola la mia colazione è diventata più golosa e croccante si conserva in un barattolo ermetico per oltre un mese io ne preparo sempre in grande quantità per averla a disposizione ogni volta che voglio adoro questa ricetta perché non contiene zuccheri aggiunti come il miele o lo sciroppo d'acero ma solo tanti semi oleosi frutta disidratata e frutta secca mi piace mangiare la granola a colazione o a merenda insieme la mia bevanda vegetale preferita o allo yogurt greco ma è buonissima anche sul gelato o sul mio budino di riso come sempre dosi e lista degli ingredienti sono alla fine del video e nell'info box qui sotto in un frullatore mettete la metà dei semi o se preferite un mix di semi e della vostra frutta secca preferita io avevo in dispensa semi di girasole di sesamo e semi di lino poi aggiungete anche la metà dei fiocchi d'avena e frullate tutto fino ad ottenere una polvere trasferite il composto in una ciotola profonda aggiungete il resto dell'avena e dei semi i cornflakes senza zucchero i mirtilli disidratati un pizzico di sale e mescolate tutto per bene riprendete ora il frullatore e create una purea morbida frullando i datteri precedentemente denocciolati insieme all'acqua questa è la consistenza che dovrete ottenere aggiungete la purea di datteri al composto preparato in precedenza e mescolate in modo che la purea si misceli bene con tutti gli ingredienti nella ciotola versate ora la granola su una teglia foderata di carta forno e cuocete in forno ventilato a 180 gradi per 30 minuti avendo cura di rimescolarla ogni 10 minuti in modo da ottenere una cottura uniforme la mezz'ora di cottura è appena passata lascerò l'audio originale per pochi secondi in modo da darvi l'idea della croccantezza di questa granola non è incredibile trasferite la granola in un barattolo ermetico ma mi raccomando aspettate che si raffreddi completamente altrimenti perderà la sua straordinaria fragranza buona merenda da gusti diversi